Segnor Italia Federanziani promuove la campagna a due passi in centro per sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni sull'importanza di una vita attiva tra gli anziani e sul diritto di ogni cittadino ad accedere al miglior percorso di cura, circostanza che oltretutto comporta anche un risparmio di risorse sanitarie. L'iniziativa coinvolge 80 città. A Napoli un corteo è partito stamattina dalla Fontana del Nettuno in piazza Municipio con centinaia di partecipanti fra cui esponenti del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Successivamente nell'antesala dei Baroni esperti del mondo della sanità hanno illustrato i benefici di un corretto stile di vita. Condivido molto la vostra iniziativa perché credo che camminare è parte di scherzi, fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene al corpo, si sta insieme, si vede la città, si vedono le cose brutte, le cose belle, le cose brutte per cercare di risolvere, le cose belle per raccontarli.